E' inutile continuare a ripetere, bisogna ricollocarli, voi avete votato contro. Io personalmente, in frequenza Giulia, utilizzo Dublino. E guardando Eurodac positivo, le persone che entrano regionalmente, Eurodac positivo, cosa vuol dire? Se sono stati già identificati in un altro Stato europeo, noi attiviamo Dublino, anzi, abbiamo agevolato la pratica. I dublinati, quindi li mandate indietro. E li rimandiamo, addirittura con la Slovenia, che è estremamente collaborativa, riusciamo per una parte degli ingressi a fare una riammissione entro 24 ore nel territorio sloveno. Lo scopo non è de-responsabilizzare il controllo dei confini, distribuendoli per l'Europa. Lo scopo è controllare i confini. In nessun paese al mondo si entra e si esce come si vuole. In nessun paese al mondo, Stati Uniti, Australia, in nessun paese al mondo. Qua c'è qualcuno che sta cercando di fare passare il messaggio che i confini devono essere mai aperti, chi entra poi viene mandato dove meglio crede.